Procedono spediti in perfetto orario sulla tabella di marcia i lavori per la riqualificazione dell'impianto sportivo di via Buonarroti a Cernusco sul Naviglio. In cantiere si lavora alacremente per poter aprire già tra qualche mese la prima parte della struttura e per poi partire ufficialmente con le attività a ottobre. Dalle ceneri del vecchio edificio, un semplice centro natatorio, i cernuschesi vedranno presto sorgere un centro sportivo all'avanguardia, unico nel suo genere in tutto l'Interland milanese. La piscina era abbastanza obsoleta, aveva circa 35 anni. Il comune ha deciso di fare un bando per la gestione e la ristrutturazione del nuovo centro natatorio. Noi abbiamo deciso di partecipare ma anziché limitarci a quello che poteva essere una semplice ristrutturazione messa a norma degli impianti, abbiamo detto facciamo le cose fatte bene. Da un semplice centro natatorio abbiamo pensato a un centro che poteva accogliere a 360 gradi qualsiasi esigenza della persona. La società che si sta occupando dei lavori è Enjoy Sport, già conosciuta in città per la gestione della piscina comunale e per il progetto Educazione Motoria, attuato nelle scuole elementari. Il bando vinto da Enjoy nel 2009 prevede un investimento pari a 6 milioni di euro, di cui parte provenienti dalle casse del comune, per creare una sorta di cittadella dello sport. Al suo interno, oltre alle piscine, riviste e ampliate, sorgeranno palestra, un centro medico, sala conferenze, bar, un centro benessere e persino un baby parking. L'area su cui si sviluppa tutto l'intervento sono circa 13 mila metri quadri, compreso l'esterno, di cui c'è tutta una parte interna, tutta completamente nuova, sono 1500 metri per piano. Tutta la zona delle vasche è avvetrate, quindi molto illuminato e quindi anche questo dà molto risalto al progetto. C'è anche tutta una parte esterna nuova, che prima non esisteva, si è creata tutta la struttura e la zona per la piscina all'aperto. Uno specchio d'acqua di 600 metri quadri, suddiviso una zona di 25 metri per tre corsie per poter effettuare anche il nuoto libero all'aperto. Una zona baby, uno scivolo di tre metri, più tutto il verde che gli rimane intorno, con il bar, quindi ombrellone e sdraio, che è una zona per il beach volley. L'idea è quella di creare un nuovo concetto di impianto sportivo, che sia in grado di accompagnare le differenti età alla scoperta dei benefici che si hanno nel conoscere e praticare lo sport, rispondendo ai differenti bisogni, che siano agonistici per il tempo libero, per la cura e la prevenzione di disturbi specifici. La parte che secondo noi è il vero valore aggiunto della struttura è un centro medico riabilitativo, una parte di visite mediche, quindi tenuti da dottori, dal fisiatra, ortopedico, diabetologo e quant'altro. Una parte di riabilitazione sia manuale che strumentale, una parte di valutazione funzionale che potrebbe essere fatta con tutte le associazioni del centro sportivo sulle squadre di basket, di calcio, oppure direttamente sui nostri ragazzi che vengono in piscina o fare un lavoro collegato alle scuole. Una palestra di riabilitazione di 130 metri quadri, e questo che praticamente non ha quasi nessuno, una vasca fuori bordo di riabilitazione all'incirca sono 40 metri quadri. Grazie alle sue caratteristiche l'edificio ha avuto il benestare del CONI, il Comitato Olimpico Italiano, e potrà contare sulla collaborazione di grandi nomi nel panorama mondiale delle attrezzature sportive. Il nostro fornitore ufficiali è Tecnogym, per quanto riguarda il centro riabilitativo abbiamo una trattativa in corso con Sixtus, che sono i leader in Italia per quello che riguarda le apparecchiature elettromedicali e la fornitura di materiale medico, e per quello che riguarda invece tutta la parte acqua, tutta la parte vasca, i nostri fornitori sono Piscina e Castiglione, che sono i fornitori delle piscine delle Olimpiadi dei Mondiali. Per noi è un sogno che si realizza, ma perché? Perché è un centro che sicuramente nell'Inter la milanese e in Lombardia non esiste, e puntiamo ad essere uno dei centri di riferimento per il futuro.